Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui in un nuovo episodio di Little Nightmares 2. Prima di iniziare mi tocca dire una cosa purtroppo brutta, cioè che tutto l'episodio precedente non è stato registrato. O meglio, è stata registrata la webcam, però il gioco no. Per fortuna si è trattato soltanto di gameplay e nulla a livello di trama. Il vero colpo di trama, il vero momento è stato appunto quando abbiamo scoperto qua la nostra compagna essere il protagonista del primo Little Nightmares. Tutta la puntata precedente fondamentalmente si può riassumere con aver risolto degli enigmi con dei fusibili, ok? Che tu dovevi inserire dentro a degli slot per aprire delle porte. Per prendere questi fusibili qui c'erano dei manichini che erano molto inquietanti, quindi l'aspetto diciamo più horror erano questi manichini qua che si rianimavano da soli e tu con la luce della torcia li dovevi bloccare. Veramente molto molto creepy come cosa, però appunto a livello di trama niente se non appunto tanto gameplay. Prima di iniziare io vi ricordo che potete trovarmi tutti i giorni con un nuovo post su Instagram alle 18 e anche su TikTok con dei nuovi video. Anche lì ogni giorno faccio anche delle dirette e in più voglio anche riprendere un attimino su Twitch. Nello scorso episodio siamo lasciati appunto alle spalle con una scoperta molto affascinante. Vi ricordate appunto che nel primo capitolo quegli omoni brutti era come se avessero, non fosse loro, come se avessero una sorta di maschera, come se fosse una sorta di copertura, ok? Ecco, è come se nello scorso episodio avessimo scoperto come fosse il loro corpo. E adesso scopriamo il dove prendono praticamente il loro viso. Guardate la parete che cosa ha appeso. Io ho lasciato esattamente qua il gameplay precedente con questa scoperta qui, ovvero appunto le maschere di tutte quelle persone che trovevamo nel primo Little Nightmares. E questa è tanta roba ragazzi, tanta 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 roba. What? Ma cosa c'è che si sta muovendo? Ma cosa c'è che si sta muovendo? Ma che schifo è? Ma che schifo è? C'è? Ma che schifo è? Dovano stare molto attenti che sto qua ci mangia. Mamma mia ragazzi, non ho parole. Oh cavoia! Che brutto! Cioè ma si sta divertendo a fare cosa? Sto schifo umano. Eh ma no, 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 no. Io devo lanciare qualcosa. Cos'è che posso lanciare? Che c'è quello schifo che si sta muovendo. Eh, lei mi sta dando chiaramente un indizio. Aspetta, ho un'idea. Aspetta, ho un'idea. Aspetta, ho un'idea. Prendilo su. Eh vabbè, vabbè, vabbè. Ma dov'è andato? E non è piccolo ragazzi Ma dov'è andato? Ah, una cosa che ho notato Nello scorso episodio È che il nostro piccolo aiutante La nostra piccola aiutante è diventata molto più intraprendente È lei che spesso va avanti rispetto a noi Ok Bisogna Mamma mia Dobbiamo trovare una chiave Strano, non l'avrei mai detto Il problema è che sicuramente sarà Ok 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 Belle queste fasi platforming Però Abbastanza semplice Non me la sto bevendo ragazzi Andiamo ad aprire Ecco qua Uno slot per il fusibile Che ovviamente sarà Dove c'è questo bel ciccio pasticcio Eccolo là in alto ragazzi Ok Ma che violenza Ok E chi se lo aspettava Che avrebbe tirato su Con quella forza Lì anche Il tavolo Ok What the fuck Bisogna Atterrare in giù Dove c'è la leva E disattivarla Eccolo Uh oh Eh, ho capito, però non è semplice lo stesso. Sali su! Ok. Dai, 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 che ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ragazzi, perfetto, mamma mia. Mamma mia, queste fughe qua sono strabelle. Via, 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 via. Sì, 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 Sì! Dai che è solo un bruciano Dai E rompila Guarda che non ha rotto Bisogna intrappolarlo dentro per bruciarlo Via 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 Dai su Dai su Ok via Dai Addirittura Ci si scalda le mani Vaccaboia Vaccaboia Non hai ricoverato Abbiamo visto una scuola Abbiamo visto un ospedale Chissà cos'altro vedremo Sento Mi sa un'altra tv Comunque rispetto Quelle macchinette lì Nascondono qualcosa Un'aster egg Un trofeo Qualsiasi cosa Lì ecco c'è l'aperto Bellissime queste aree Nella loro Nel loro stile ecco Stiamo attraversando Stiamo attraversando tutta Un'intera città galleggiante Guardate qua Vaccaboia Vaccaboia Stanno gettando vestiti Un altro luogo chiuso Non so assolutamente cosa aspettarmi Vaccaboia 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 Cacchio Che schifo è caduto Ragazzi è un po' da bastardi Lo so però mi fermo qua In questo episodio abbiamo affrontato Una creatura Così scoperta In poco tempo E fatta fuori anche subito Relativamente parlando Se considerate che io Nello scorso episodio Che non avete visto Che non è stato registrato Lì ho fatto una sezione infinita Con dei manichini Per prendere quei fusibili Ok ma è durata ragazzi Ho fatto un'ora di registrazione E non è poco Per Little Nightmares Considerando la durata complessiva Del titolo Tuttavia In questa sezione qua Finale È durata anche relativamente poco Abbiamo affrontato subito Un altro nemico E fatto fuori Adesso siamo al cospetto Di un'altra area Completamente nuova Io ripeto Non so neanche Non so neanche Cosa aspettarmi Come finale Come arrivo O qualsiasi cosa Perché Non c'è stato un incipit Dall'inizio del gioco Che ti abbia fatto capire Dove andava a parare Quale poteva essere la fine Io termino qua Vi ringrazio per aver visto Anche oggi In questo nuovo episodio Vi ricordo che potete Trovarmi ogni giorno Con un nuovo post Su Instagram Alle 18 E anche su TikTok Con dei nuovi video E delle live Ho intenzione anche Di tornare su Twitch Quindi mi raccomando Seguitemi nelle stories Che andrò ad aggiornarvi su tutto Vi ricordo anche di iscrivervi Qui sul canale Per rimanere aggiornati Su tutte le mie pubblicazioni Giornaliere Ogni giorno appunto Alle 15 E niente ragazzi Io vi saluto Ci vediamo in un prossimo video Dove non so assolutamente Quello che andrò a dirvi Ma sicuramente ci sarà Ragazzi Una buona giornata a tutti Ciao 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 Ciao